Rifanno le strade provinciali. Stavolta non è un annuncio, è un fatto della politica, concreto dopo anni di attesa. L'amministrazione di Palazzo Dogana sta definendo un bando per appaltare 15 milioni di lavori sulle strade dei Monti Dauni che collegano i piccoli comuni e il tavoliere. La torta del finanziamento nell'ambito del POR Puglia 2014-2020 è stata già divisa in 14 fette, 14 lotti che interesseranno entrambi i versanti delle aree interne. Il bando è in pubblicazione sul sito della provincia a cura della stazione unica appaltante. La fetta più grande dei finanziamenti, 2.380.000 euro, è stata destinata alla strada provinciale 130, Collega, Lucera, Alberona e Roseto. A seguire 1.195.000 euro per rimettere a posto la provinciale che da Volturino porta alla Crocella di Motta, bivio per Voltura Rapula. Nel progetto rientrano il tratto della provinciale 125, Ponte Celone-Ponte Lucifero, la Troiana per un importo superiore al milione di euro, la strada Lucera-Ponte Fortore, la 121 sul versante meridionale Ponte Bovino-Panni, la 139 Bovino-Accadia, la 99 Ascoli-Candela-Rocchetta-Sant'Antonio, la provinciale di Varco di Accadia, la 122 Bovino-Deliceto, la 126 di Cerle-Sanvito e infine i lavori interesseranno la Lucera-Sculgola, la provinciale 91 dell'Ofanto e la Torre Maggiore-Casalvecchio.